Ci troviamo nell'azienda del signor Gianfranco Magatia, allevatore di pecore di rasa Asciarda, che ha accettato di testare una delle soluzioni proposte dal progetto Sipilio. Signor Magatia, quale soluzione hai scelto? Ho scelto la soluzione di registrare la mortalità degli agnelli. Come mai hai sentito l'esigenza di testare questa soluzione? Per capire e avere un fatto più certo per quanto riguarda la mortalità degli agnelli. E' stata facile da applicare? Allora non è stata facile perché avendo un'azienda grande è difficile prendere questi dati così. Ci vorrebbe un sistema più veloce che memorizzano i dati, magari leggendo il microcipo dell'animale che ha fatto l'agnello morto e scriverli in qualcosa che hai in tasca. Se no un foglio, una cartella, stare tutto il giorno quando parto lì sono 50-60 pecore a segnare così è molto laborioso, è difficile. In termini di risultati sei rimasto contento? Abbiamo una mortalità bassissima, quindi era un dato che più o meno sapevo. Però se si applica un sistema più semplice da utilizzare sono contento, certo. Quindi, dato che l'inconveniente è principale e la laboriosità, proponi delle modifiche alla soluzione per poter essere applicata su larga scala? Le modifiche che propongo sono quelle di avere un sistema per memorizzare più velocemente i dati della mortalità, su un telefonino, su qualcosa che hai sempre in tasca e che puoi scrivere in pochi secondi. Grazie.